Comunque è finito il 2016 e fidatevi che è meglio così Io vi do appuntamento al prossimo episodio Signori ditemi nei commenti se volete una live per il prossimo episodio, per il mercato Ragazzuoli una splendida notizia da darvi Perché ho fatto il sondaggio su Stroopol per la live E ha vinto clamorosamente il sì Quindi ovviamente la live ci sarà per il calciomercato Tutto il calciomercato in compagnia di Rudy Slatan Giovedì dalle 17 in poi Quindi faremo una live qui su Youtube ovviamente Quindi non potete mancare, noi vi aspettiamo Un bacione e a giovedì